In questa casa di persone per bene, papà tiene sempre le labbra serrate. È fulente con Van Damme perché ci imbrogliano, ci sottraggono carne ed altre cose. La mamma ha le guance chiazzate di rosso per l'agitazione. Margot si lamenta per il mal di testa. Dussel non riesce a dormire. La signora Van Damme si laglia dalla mattina alla sera. E anch'io ho proprio perso la bussola. Francamente a volte non ricordo con chi abbiamo litigato e con quali persone ho già fatto la pace. Non ho assolutamente appetito. Ma che brutto aspetto che hai! Si danno tutti molto da fare per tenermi un po' su. In casa c'è un'atmosfera schiacciante. Tutto è avvolto da un silenzio di tomba angosciante che mi si appiccica addosso come se dovesse trascinarmi degli avvisi profondi. Mi sento come un uccello a cui siano state brutalmente strappate le ali. Va a sbattere contro le sbarre della sua gabbia. Nell'oscurità più totale. Mi sono fatta un'idea ben precisa di come deve essere una donna e una madre. E colei che devo chiamare mamma. Non possiede nessuna delle caratteristiche necessarie. Mi propongo sempre però di non pensare a quello che la mamma sbaglia. Voglio vedere soltanto i suoi lati positivi. E quello che non trovi lei cercarlo dentro di me. Ma non ci riesco. Si può soddisfare del tutto i propri figli. A volte penso che Dio mi voglia mettere alla prova. Devo diventare buona da sola, senza esempi da seguire e senza spiegazioni. Così poi sarò particolarmente forte. Chi abbatte me rileggerà un domani tutte queste lettere. Chi mi consolerà se non lo farò da sola. Ne sono cosciente e ogni giorno mi sforzo di migliorare. Il diario è il mio punto in partenza e vi arrivo. Perché la carta è sempre parziale. Vedo nei otto. Nell'alloggio segreto. Come se fossimo un pezzetto di cialazzurro. Circondati da nubi nere di pioggia. L'isoletta protetta su cui ci troviamo è ancora sicura. Ma le nuvole si avvicinano sempre di più. E il cerchio che ci separa dal pericolo incombente si fa sempre più stretto. Per la disperazione di metterci in salvo, ci scontriamo tra di noi. Guardiamo tutti in basso dove la gente combatte. Guardiamo tutti in alto dove è bello e tranquillo. E siamo isolati da una massa tetra che non ci lascia salire né scendere. Che ci sta davanti come un muro impenetrabile. Che ci vuole distruggere ma non può ancora farlo. Cerchio, allargati, apriti per noi. La penna stilografica. La penna stilografica è sempre stata per me un oggetto prezioso. Per il penino grosso. Perché so scrivere veramente bene solo con i penini grossi. La mia stilo ha avuto una vita stilografica molto lunga. Interessante. Una sera mi si è adottavolo per scrivere. Cerco la penna dappertutto. Scomparsa. Cerco di nuovo. Cerca Margot. Cerca la mamma. Cerca papà. Cerca Dussel. Cerca tutti. Ma lei era sparita senza lasciare tacci. Forse è caduta nella stufa assieme ai fagioli. Ma no. A torta sera. La mia penna non voleva ancora farsi vedere. Tutti hanno pensato che fosse bruciata. Anche perché la celluloide brucia benissimo. E infatti. Il triste presagio è stato confermato il mattino seguente. Quando papà pulendo la stufa in mezzo a una parata di cenere ha trovato il fermaio con cui la penna si aggancia al tastino. Mi resta una sola consolazione. Magra. La mia penna stilografica è stata cremata. Proprio come un domani vorrei essere cremata io. Natale 1943. Il tempo è grigio. La stufa pulsa. Il mangiare è pesante. E provoca tutta una serie di... grosse nubi temporalesche. Tregua bellica. Humore pessimo. Negli ultimi tempi teniamo la carne divisa. Loro con il grasso e noi senza grasso. E le patate. Loro sbucciate e noi raschiate. Mi ha fatto una bellissima torta. su cui ha scritto Pace 1944. Pace 1944. Sbucciate e noi raschiati. Imposto comunque a me la này con i cleani. Grazie.